Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della serie di trattori cingolati landini. I trattori cingolati landini sono sinonimo di efficienza, comfort, performance e funzionalità su ogni tipo di terreno. Grazie al loro baricentro basso trovano impiego ideale negli appezzamenti con forte pendenza, o dove è richiesto un basso impattamento a terra ma comunque garantendo un alto livello di aderenza. Trovano impiego tra i filari dei frutteti e dei vigneti, disponibili anche in versioni pensate specificamente per la montagna, i cingolati landini sono estremamente versatili e si prestano anche all'impiego in campo aperto. Efficienza e comfort su ogni tipo di terreno grazie al sistema cingolato questi trattori possono muoversi senza problemi su terreni accidentati, umidi e con forte pendenza. Stabili e affidabili, con grande aderenza al suolo, i cingolati landini sono la soluzione migliore per tutte le attività che richiedono una grande forza di trazione e per il trasporto di materiali. Un'idraulica altamente configurabile e una facilità ad agganciarsi alle attrezzature permettono di rispondere a tutte le necessità delle moderne aziende agricole. Il comfort di guida è garantito da un sedile regolabile con sospensione pneumatica, comandi ergonomici garantiscono una grande maneggevolezza, un nuovo cruscotto e l'adozione di uno strumento digitale rendono immediatamente disponibili le informazioni utili all'operatore, il baricentro basso e la grande superficie di appoggio dei cingoli offrono sicurezza e stabilità, grande manovrabilità e una ridotta costipazione del terreno. I cingolati landini sono sinonimo di efficienza e affidabilità per le lavorazioni in condizioni estreme. Cerchio pieno F è la versione ideata appositamente per fruttetti, ideale per lavorare tra filari stretti. Cerchio pieno M è la versione per la montagna, specialmente progettata per le grandi pendenze. Cerchio pieno C è la versione per campo aperto, estremamente versatile, creata per l'impiego con attrezzature pesante. I Trekker 4 landini sono dotati di motori Deutz AG con cilindrate da 2,9 litri e 3,6 litri turbo aftercooler, a 4 cilindri e 16 valvole. I motori sono in grado di erogare potenze tra 76 e 102 cavalli vapore sulle versioni FM e tra 98,6 e 106 cavalli vapore sulla versione C. Le emissioni rispettano le normative Stage 3B, TR4i, grazie all'adozione di un catalizzatore DOC senza rigenerazione per il trattamento dei gas di scarico. Trasmissione. I trattori cingolati landini dispongono di trasmissioni meccaniche 8 più 8 o 16 più 8, 4 marce, 2 gamme, con overdrive o creeper a scelta. Le trasmissioni di produzione Argo Tractors sono realizzate in Italia. La presa di forza a due velocità, 540 540 e o 540 mille giri PRM INUT e Idraulica. L'impianto idraulico delle versioni FM dispone di una pompa doppia da 41 più 28 LP e RM INUT e di serie, la prima dedicata a sollevatore posteriore e distributori, la seconda allo sterzo. La versione C dispone di una pompa doppia da 39 più 27 LP e RM INUT e più una pompa ausiliaria da 48 LP e RM INUT e dedicata ai distributori. Il sollevatore di base è in grado di sollevare fino a 2600 kg, che sulla versione C può raggiungere fino i 3400 kg con l'adozione di due cilindri supplementari. Gli attacchi rapidi posteriori e anteriori sono disposti in modo da assicurare innesti facili, a garanzia di massimo comfort e risparmio di tempo. Posto guida. Tante novità per il posto guida, nuovo cruscotto, con comandi ergonomici e con uno strumento digitale per tenere sotto controllo i principali parametri operativi, oltre a un nuovo sistema di sospensione pneumatica del sedile. La versione C monta un telaio di sicurezza di qualità migliorata, derivante dalla struttura delle cabine dell'alta gamma di trattori landini. Queste sono informazioni prese dal sito ufficiale e quindi molto attendibili. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.